Andrea Rufi Revisore Io faccio sempre fatica a darmi una definizione. Sono un'imprenditrice, sono un industriale chimico, sono una manager. Pensate che nella vita mi è capitato persino, giuro, di fare il banchiere. Sono prima di tutto una persona privilegiata perché io amo moltissimo il mio lavoro e quindi in tutti i ruoli che ho avuto nella vita, in tutte le cose che ho fatto ho prima di tutto cercato di essere un buon custode perché ho sentito sempre molto forte la responsabilità del valore che mi veniva affidato. Un valore che non ho mai chiuso dentro una cassaforte, ma ho sempre cercato di moltiplicarlo. Questo è un posto che è molto simile a casa mia. Questa storia che vi racconto oggi è una storia di una promessa, una promessa che io ho fatto al mio territorio, alla gente del mio territorio, che aveva bisogno di una seconda possibilità a cui ho cercato di contribuire per ritrovare la fiducia e la speranza. È un territorio straordinariamente bello, pieno di talenti, pieno di cultura, però è un territorio avvitato su se stesso, fatto di piccole visioni, sordo al richiamo della contemporaneità, un territorio prigioniero del proprio passato e quindi un territorio bloccato. La mia è la storia di una missione impossibile. Forse qualche appassionato delle cronache finanziarie se la ricorderà anche, è piuttosto recente. O magari qualche appassionato di film d'avventura, perché più o meno questo era il tema, però ho dei film d'azione, però non ve la racconto oggi, non è questo l'argomento, ma è la premessa del ragionamento che voglio condividere con voi. Questa storia, questa mia esperienza è stato quello che mi ha insegnato che il futuro si sblocca quando si pensa che non sia più un futuro. Il futuro è un qualcosa che non si aspetta, è un qualcosa che si fa. Poco meno di due anni fa sono stata chiamata a presiedere una fondazione il cui stato di salute apparente era tutto sommato, come dire, una ristrutturazione profonda, ma una ristrutturazione. Perché proprio me? Io sono un imprenditore, quindi, come dire, ho la cassetta degli attrezzi giusta per affrontare una ristrutturazione. In più sono anche una donna, in più sono anche più o meno giovane. Quindi un'operazione di maquillage, direi, perfetta, su una situazione che molti ritenevano compromessa. E compromessa lo era, ma io me ne sono accorta soltanto quando poi alla fine ho potuto rendermi conto del contesto. Molte persone, soprattutto la gente del territorio, voleva che questa fosse una storia alle tofine. Perché soprattutto in un periodo di difficoltà, di crisi, di risorse per definizione limitate, quello poteva essere un unico, forse piccolo ma importante, motore di sviluppo. Un gruppo forse più ristretto di persone aveva una gran voglia di voltare la pagina e chiudere definitivamente il libro. La sostanza qual è? Che di fatto non ci credeva nessuno e che quindi, in ogni caso, qualunque fosse stato l'esito di questa mia avventura, come si dice dalle mie parti, la ragazza aveva fatto il suo. Il soffitto di cristallo si era rotto per farmi avere accesso a uno straordinario precipizio di cristallo. Quindi non era un premio, non era un'opportunità di carriera, ma io non ho detto di no. Perché un po', come dire, per incoscienza, un po' per attaccamento e credo prima di tutto per un sano spirito di servizio che anima tutti noi quando facciamo i conti con le nostre passioni, mi sono messa a lavorare, mi sono messa a lavorare duramente in un contesto completamente estraneo, con grandi pregiudizi quando non con forti ostilità. Ci piaceva pensare di essere quel villaggio dell'Armorica abitato dai riducibili galli che resiste ancora e sempre all'invasore. Non so quanti di voi hanno letto Asterix. Però io non ero Obelix, ero Asterix. Però la fine della storia è stata una storia molto bella perché è stato veramente un lieto fine e quindi tutto è andato come noi ci auguravamo. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Questa storia mi ha insegnato tante cose. Prima di tutto che, come dire, non c'è un modo garbato per cambiare le cose. Non si chiede il permesso per difendere le nostre convinzioni. Io ho sempre detto che si cresce per traumi. Bisogna volerlo. Bisogna desiderarlo fortemente. Ci vuole un motore forte per ribaltare il tavolo. E quel motore sono i nostri valori. Sono i nostri fondamentali. Sono quello che regge la nostra identità. Quelle cose per cui vale la pena mettersi in gioco e quelle cose per cui vale la pena rischiare. però ci vuole coraggio. E io ho avuto paura. Ho imparato la paura. Il coraggio non è assenza di paura. È la capacità di rimanere lucidi pur avendo paura, convivendoci. E bisogna essere forti perché bisogna essere in grado di sostenere il senso di solitudine che si affronta quando si guardano in faccia le scelte importanti della nostra vita. Però la rottura da sola non basta. Ci vuole anche un cambio di prospettiva. Non c'è futuro senza una visione. E la nostra necessità è quella di cercare di guardare alle cose da un'angolazione differente. E se me lo consentite, anche concederci il lusso quando non affrontare il rischio di sognare. Guardare le cose da un'angolazione diversa significa aprirsi, significa contaminarsi, significa avere la possibilità di condividere il nostro presente, le nostre prospettive con persone che hanno un orizzonte culturale diverso dal nostro. Io ero un pesce fuor d'acqua? Un marziano sulla terra? Marziano mi sembra che l'abbiano anche scritto i giornali, peraltro. Ero un chimico nello mare scuro della finanza. E questa mia diversità mi ha consentito di guardare alle cose con occhi nuovi. altrimenti ci mettiamo comodi, ci mettiamo comodi nelle labirinti delle nostre vite, con tutte quelle strade che ci sembrano diverse ma che in realtà portano tutte alla fine nello stesso luogo. E la vita invece ci chiede qualcosa in più, ci chiede di uscire dalla nostra zona di comfort e di fare qualcosa che forse ci può fare anche perdere parti di noi. Però andare incontro al futuro significa anche cambiare passo, ovvero cambiare velocità, cambiare mentalità, cambiare atteggiamento. Questo è il cantiere del futuro. Cos'è il futuro per voi? È una semplice continuità del presente o è una costruzione di qualcosa che ci possa appartenere veramente? Lo dicevo nella premessa, è qualcosa che arriva o qualcosa che si fa? Per me è qualcosa che si fa. Però il futuro ha bisogno di eccentrici, ha bisogno di eretici, che non vuol dire essere contro, vuol dire però rifiutare i dogmi. Il mio dogma era il controllo ad ogni costo, il controllo di una proprietà senza possesso. Questa è la sensazione che si prova quando si è rotto il contesto. È una vertigine. Chi se la ricorda la canzone? La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. E la voglia di volare deve avere la prevalenza. Perché se si ha voglia di volare, e questo si ha quando si è convinti di fare la cosa giusta, in quel momento possiamo anche immaginare di superare i nostri limiti, che sono prima di tutto limiti mentali. Io ero convinta di fare la cosa giusta, anche se la posta in gioco nel mio caso era una posta altissima, era una posta enorme. Perché io con le mie azioni mi giocavo il patrimonio di una comunità che questa comunità aveva costruito in 500 anni di storia. Ma io sapevo che facevo la cosa giusta, perché l'avevo fatta in coerenza con i miei valori, nel rispetto del ruolo che ricoprivo a tutela degli interessi di quella stessa comunità. È chiaro che gli eretici non sono popolari. E non vi aspettate che ci sia là fuori, rispetto alle vostre scelte eretiche, un mondo che fa il tifo per voi. Oltre al fatto che in qualche modo tante variabili non sono controllabili, probabilmente lo sono molto poche. Io ho avuto stampa negativa per molti mesi, e per questo ho imparato a leggere i giornali. E ho capito che passiamo molto più tempo a polemizzare su come abbiamo amministrato il nostro passato, piuttosto che a immaginare come possiamo anticipare il futuro. Che prezzo ha sbloccare il futuro? Io credo di aver pagato un prezzo sul profilo personale e anche su quello professionale. E ho acquisito la consapevolezza che comunque ogni maggiore responsabilità impone una rinuncia. però l'unica cosa a cui non ho rinunciato non ho mai rinunciato a me stessa. Noi donne siamo equilibriste per professione. Anzi, diciamo che ormai abbiamo imparato a mantenere il nostro equilibrio e anche la nostra autenticità. La sfida di una classe dirigente che vuole sbloccare il futuro è la sfida contemporanea. La battaglia che le donne oggi hanno e che lega le donne ai giovani di questo paese è sbloccare il futuro di questo paese e che in questo senso ha bisogno di tutti i suoi migliori talenti. La nostra battaglia è la battaglia per il merito. Grazie.